Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei partire dalle ultime notizie sul calo, diciamo, stavo per dire crollo, forse esagerato, diciamo il calo della borsa e soprattutto il calo molto importante di titoli magari un po' più tecnologici, soprattutto i cosiddetti funks legati appunto anche a colossi come Facebook, che è meta, si chiama Google, che è Alphabet, ma anche colossi come Amazon, Apple, abbiamo visto Netflix, ma anche AMD per esempio, Tesla stessa, insomma tutta una serie di società legate così agli ultimi anni di grande sviluppo della tecnologia, ma soprattutto da tecnologia di consumo, legati anche così allo stare a casa, soprattutto dal 2020, quindi al cambio delle abitudini, alla grande diffusione e moda anche delle criptovalute e legate proprio alle criptovalute c'è stato anche un crollo ancora più marcato, non solo di alcuni altcoins magari così più volatili storicamente, ma anche del bitcoin e dell'ethereum che sono un po' considerati l'oro e l'argento del mercato delle criptovalute, con cali molto significativi, il bitcoin dai massimi ha perso circa la metà, quindi insomma un calo molto importante e molti analisti dicevano all'epoca, sì però in realtà adesso il fatto che ci hanno investito molte banche, anche grossissime società, istituzioni finanziarie, il fatto stesso che anche l'atteggiamento dei governi è sempre un po' ambiguo, a volte contro, a volte invece considerandoli ormai parte del mercato finanziario, il fatto anche che hanno creato sempre più strumenti derivati e finanziari legati ai prezzi di criptovalute faceva ritenere che il prezzo sarebbe stato più stabile, invece poi così non è stato, ecco poi al di là di come magari uno lo vive e lo pensa. Poi c'è stata la notizia ancora più impressionante del crollo di terra-luna, diciamo la stablecoin di fatto, la criptovaluta che doveva essere addirittura agganciata come valore stablecoin sarebbe appunto una criptovaluta che ha un valore stabile e che appunto dovrebbe prevenire questa variabilità, quindi doveva essere ancorata a un dollaro sostanzialmente. Poi ognuna ha dei sistemi diversi, delle regole diverse, adesso non mi addentro, poi anticipo tra parentesi, dovrei fare a breve un video, sempre un altro video con Francesco Gremesse proprio sul tema criptovalute dal punto di vista di investimenti finanziari, insomma ci confronteremo, lui poi sul tema è più informato di me soprattutto su singoli progetti, quindi poi ne parleremo meglio con lui, ecco quindi anticipo questo, insomma adesso non so quando ma brevemente insomma cercavamo di organizzarne un'altra. Ecco a parte questo che tra l'altro saluto Francesco. Detto questo appunto, questo crollo di addirittura di terra-luna di circa 99% che dovrebbe essere legato, ancora così ci sono tanti retroscena, si leggono, probabilmente è un attacco speculativo, c'è chi dice appunto a una trappola che hanno fatto oppure altri proprio al fatto che così sarebbe diciamo scoppiata come così. Però il fatto anche che le stablecoin appunto siano state così sotto pressione dà l'idea della grande variabilità di questo mercato, quindi ecco stanno continuando anche tutta una serie di trend che avevamo visto, dicevano i bassisti, soprattutto su questi titoli più famosi ma un po' tutto il mercato, anche lo Standard & Poor's 500 è calato molto, lo stesso Dow Jones che sono proprio le imprese più standard, più così legate alla fine alla economia tradizionale e questo anche in Europa ovviamente, anche perché qui poi ci sono tutti i problemi legati così ai rapporti con la Russia, stiamo assistendo a tutta una serie di voltafaccia dietro front rispetto all'approccio così spietato dei nostri politici che magari passavano a dire rimanderemo in fallimento la Russia in poco tempo, ci saranno le rivolte lì così, auguravano ogni male così, discriminazioni anche così a singole persone, non solo ai russi che così, avrebbero solo la colpa di essere così di quella nazionalità con casi anche vergognosi, insomma di gente che non c'entrava nulla, ma anche proprio addirittura così anche cose che suonavano, addirittura cambiavano il nome all'insalata russa, Dostoyevsky che era artisti, musicisti così morti da decenni che così venivano bannati, cose fuori di isteria proprio per cui abbiamo assistito prima col virus negli ultimi due anni e adesso era trasferita a questo. Appunto questo approccio duro, poi abbiamo visto adesso invece brevemente notizie di questi giorni Bloomberg scriveva che circa 20 società europee avrebbero aperto i conti con la Gazprom Bank per pagare i rubli il gas, cosa che ovviamente fino a un mese fa era stata assolutamente negata, non ci piegheremo mai, anzi li ridurremo la fame, possiamo fare a meno di loro, così non è stato, ovviamente come era prevedibile, avevamo già anticipato, ma senza prendere le parti di uno l'altro. E secondo luogo poi dicevano ecco ai stessi politici, tra cui il nostro Presidente del Consiglio che diceva che assolutamente pagare il gas in rubli sarebbe stato una violazione contrattuale, non se ne parlava, per non parlare, non ricordo quello che diceva il nostro Ministro degli Esteri, insomma è collegato così al Presidente russo, insomma tra l'altro che due anni prima invece lo sannava, a parte questo a un certo punto adesso invece lo stesso nostro Presidente del Consiglio sta dicendo che comunque pagare il gas in rubli non è una violazione delle sanzioni e quindi si può fare ecco, quindi proprio un volta faccia totale. E tra l'altro vari così anche politici di partiti, quelli che più sostenevano di dover mandare armi, di continuare questa guerra per così sfiancare la Russia, anche se allungare una guerra significa probabilmente allungare i morti da tutte e due le parti, però loro avevano questo approccio, adesso invece dicono basta bisogna sederci a un tavolo di pace, quindi così totalmente dicevano che stavano perdendo la guerra, ogni giorno arrivano notizie di altre città così che invece vengono prese dai russi, quindi però ecco questo è l'aggiornamento sulla situazione europea che chiaramente mette molta pressione, avevamo visto il fatto che il portavoce della Bundesbank tedesca ha detto che l'Europa alzerà i tassi probabilmente per combattere l'inflazione, è curioso che lo dicano i tedeschi probabilmente perché sono i più insofferenti all'inflazione che in Europa sta devastando soprattutto la Germania con il 7,8%, poi vedremo gli ultimi dati quali saranno, quindi anche l'Europa ha molte pressioni sia sui mercati sia purtroppo sull'economia reale. Sono partito anche da questi così aggiornamenti, l'euro è quasi in parità col dollaro, siamo arrivati a 1,03, adesso è salito appena sopra 1,04, ormai siamo veramente vicinissimi alla parità, livelli che non si vedevano da tantissimi anni e sono partito ecco da questi così aggiornamenti ma per dare dei consigli su come affrontare psicologicamente anche partendo dai miei errori passati, vi racconterò le mie esperienze, i cali del mercato. Quindi voglio darvi così cinque regole a cui ho pensato, ripeto partendo dai miei errori passati, dalle mie esperienze, dalle mie così errori di investitore per fortuna con piccole cifre da quando già ero molto piccolo, però ho vissuto a livello psicologico soprattutto tutti quegli errori che tra l'altro avevo anche letto in dei libri ma poi quando li vivi in prima persona tutta la teoria che hai letto così non ti torna in mente e avevo vissuto tutta una serie di errori e si impara sbagliando, solo che appunto a volte diciamo il costo di sbagliare è più o meno alto, nel mio caso per fortuna non è stato altissimo col senno di poi, ho sbagliato, ho perso tanto ma tanto per quello che potrebbe essere un bambino quindi magari potrebbero essere poche centinaia di euro che magari in percentuale di investimento per ora sarebbe stato devastante se avessi investito molto di più e questo comunque mi ha insegnato anche a sbagliare a imparare e segna anche perché bisogna però avere degli approcci quindi vorrei darvi così delle regole in questo periodo molto di tensione soprattutto perché molti hanno investito proprio in quegli asset più speculativi sia azioni legate così all'innovazione queste nuove tecnologie magari anche a nomi molto noti sia anche magari società più tradizionali che comunque stanno soffrendo molto per tutta una serie di motivi legati alle società oppure proprio al mercato o all'aumento dei tassi ma al di là di quello comunque noi psicologicamente viviamo molto le perdite perché riguardano proprio l'aspetto quasi istintivo legato al cervello proprio primitivo l'ho letto su alcuni libri di finanza comportamentale si chiamano oppure psicologia finanziaria insomma ce ne sono tanti adesso non ricordo il titolo perché li presi in biblioteca che avevo 15 anni una cosa del genere quindi però ricordo che mi colpirono alcuni aspetti e che però negli anni dopo non ho ricordato perché poi quando li vivi è completamente diverso e spiegava però proprio livelli primitivi da uomo primitivo che noi abbiamo che noi viviamo dentro il cervello soprattutto quando gestiamo i soldi perché i soldi diventano non appunto il valore monetario in sé ma una sorta di gioco una sorta di gioco dove noi mettiamo appunto in gioco noi stessi il nostro valore personale la percezione di noi che abbiamo questo è il motivo anche per cui per esempio vi sarà capitato presumo a tutti a capodanno alle feste di natale magari vediamo tra amici e parenti qualche elemento fanatico anche nello sport proprio così di persone che nella vita normale sono le più simpatiche tranquille del mondo quando fanno così dei giochi da tavolo anche che non giocano niente o magari giocano le caramelle delle cose vedi che proprio giocherebbero per la vita devono vincere a ogni costo io conosco persone che così se perdono non ti parlano tre giorni anche se non lo so gente che barava questi quiz sapete no quella sul ricordo il nome di quel gioco con le carte che rispondono le domande gente che sta lì con i cellulari sotto guardate risposte che dovevano vincere anche barando io tante volte dicevo ma perché oppure la partitina non so a tennis a calcetto che devono vincere ogni costo e proprio si arrabbiano è legato a questo a maggior ragione se uno investe dei soldi ma in realtà è legato a quello che magari sono persone che spendono 500 euro magari per un cappotto firmato però se ne perdono 50 diventano dei pazzi perché è legato proprio all'aspetto personale psicologico questo noi dobbiamo comprenderlo cioè al nostro valore quindi noi ci sentiamo dei vincenti se il nostro investimento va bene se guadagniamo ci sentiamo più intelligenti degli altri e magari invece abbiamo guadagnato non perché abbiamo scelto bene siamo stati bravi ma per pura fortuna quello che raccontava redaglio sul suo primo investimento dice io feci l'errore che proprio perché guadagnai per puro caso in realtà pensavo che fosse facile guadagnare in borsa non era così e la stessa cosa facciamo tutti noi in realtà quindi quello è l'errore e soprattutto quando perdiamo è qui l'oggetto diciamo del video subentano tutta una serie di meccanismi legati alla paura l'avidità all'orgoglio alla rabbia all'istinto così del del vincente dell'almaschio alfa del capobranco di tutte queste cose veramente di psicologia primordiale che però senza rendercene conto influenzano i nostri investimenti che invece dovrebbero essere razionali soprattutto i nostri comportamenti in momenti di stress quindi bisogna pensare prima a evitare di trovarci in quelle situazioni poi ci si troveremo comunque ma a quel punto dobbiamo avere già un piano fatto quando noi abbiamo la mente fresca fredda e razionale per gestire i momenti in cui invece non avremo la mente fredda quindi vorrei darvi così dei consigli in questo senso legati proprio a questo allora la prima regola ero partito anche così dalla storia ecco del conflitto di tutta anche la narrazione europea eccetera per dire la prima regola è quella di prendere le informazioni più possibile oggettive accurate basarci su quelle e è fondamentale perché se noi cominciamo a basarci su informazioni sbagliate o di parte volutamente magari così scritte di parte per motivi politici ideologici di chi scrive legate a interessi magari così più o meno conosciuti di chi scrive rischiamo veramente di perdere tanti soldi sulla nostra pelle e purtroppo come penso tutti noi sappiamo abbiamo purtroppo avuto modo di vedere l'informazione è spesso fortemente alterata l'abbiamo soprattutto visto in questi ultimi due anni su quella gestione proprio mediatica pesantissima legata alla pandemia addirittura proprio chiaramente con cifre spaventose milioni di euro che il governo dava a pochi mezzi di informazione per fare cosiddetta informazione cioè divulgare notizie che loro volevano insomma quindi a livelli proprio veramente io definirei passi di propaganda personalmente io questa idea e adesso con la così conflitto con la russia lo vediamo anche il continuo cambiamento ma soprattutto dei preoccupanti fenomeni di censura che ripeto non significa avere l'idea di quei altri o la nostra significa appunto però come da cittadini consapevoli io da così giurista anche così anche avendo diciamo fatto pratica forense avendo fatto l'esame d'avvocato dopo è scontato ma insomma per tutti noi dovrebbe essere così ovviamente che per così cercare di arrivare la verità ammesso che esista bisogna cercare di ascoltare più fonti cioè noi non sappiamo non c'è una fonte oggettiva per cui in un processo ascoltiamo l'accusa la difesa tutte le parti coinvolte cerchiamo di fare una sintesi in base alla credibilità così della tesi portata da ognuno dalle prove eccetera stessa cosa dovremmo fare con informazione perché non esiste informazione perfetta il fatto che ci vengano censurata l'accesso a tutta una serie di fonti estere magari poi sicuramente con la loro propaganda magari non vera però dovremmo essere noi a decidere il fatto che ci dicano loro fanno disinformazione noi vi censuriamo questo è tipico diciamo dei paesi che non erano propriamente liberi insomma ecco in più abbiamo visto insomma il livello dell'informazione io ormai girano anche su internet tantissimi articoli che nel giro di così pubblicati dai stessi giornalisti che dicono la stessa cosa cioè opposta nel giro di pochi giorni per cui cose spaventose ormai alcuni hanno evidenti idee politiche che portano avanti in generale c'è da anni adesso anche purtroppo prima di questi due anni questa idea proprio di dare una visione sbagliata della realtà quasi vantandosi dicendo certo perché noi dobbiamo portare avanti questa ideologia e quindi dobbiamo sicuramente un'ideologia giusta assoluta quasi una divinità l'avevamo visto per esempio con il discorso dell'unione europea ovviamente uno può pensare sia un bene un male e tutto non è quello il punto è il fatto che è considerato una divinità assoluta totale quindi da portare avanti a ogni costo quindi mentre per anni è stata un mezzo per portare avanti dei valori cioè dei valori appunto legati al sviluppo dei diritti civili dei diritti economici del benessere dei popoli l'unione dei popoli la pace e tutta una serie di principi da sviluppare quindi un mezzo per poterlo fare per rafforzare per costringere a volte anche gli stati a rispettare i diritti fondamentali sempre più purtroppo stiamo vedendo almeno dal mio punto di vista negli ultimi anni il caso della grecia fu eclatante ma insomma ce ne sono stati purtroppo altri che c'è stata quasi un'inversione per cui lo stesso strumento istituzionale è diventato il fine per cui anche a volte sacrificare così certi interessi che magari dovrebbe anzi portare avanti però dicendo il fine giustifica i mezzi addirittura il mezzo per tutelare il mezzo per sacrificare anche i fini a volte del mezzo stesso quindi è qualcosa estremo però abbiamo visto quindi è molto difficile trovare informazioni pulite il consiglio che do per esperienza personale appunto è guardare da più fonti cercando dopo anche nel nostro piccolo di fare una classifica anche di quelle più autorevoli col senno di poi lo vediamo dopo chi diceva le cose vere chi invece era chiaramente in mala fede chi magari ha sbagliato così inconsapevolmente chi invece poi ci sono tanti purtroppo legami anche di natura economica di interessi personali quindi bisogna stare molto attenti a cosa si legge io addirittura vado oltre leggo a volte proprio dei personaggi chiaramente in mala fede dal mio punto di vista chiaramente con visioni distorte volutamente chiaramente propagandistici proprio perché voglio capire qual è il messaggio che quella parte vuole far credere alle persone poi andare l'opposto e questo ripeto è importante perché tante volte seguendo cosiddetto neanche il gregge ma insomma quello dove appunto vogliono portare il mainstream si rischiano di fare decisioni sia a livello personale sia a livello anche economico devastanti perché poi è quello il punto perché come ricordava Galbraith nel caso del libro del 29 nel crollo del 29 la maggior parte delle persone che persero i soldi nel crollo non erano persone che avevano investito all'inizio e poi furono travolti dal crollo ma erano persone che seguendo anche i consigli di persone cosiddette autorevoli dell'epoca anche professori noti giornalisti scrittori esperti sedicenti esperti di finanza investivano mentre il mercato andava giù dicendo questo è il momento di comprare per chi non l'ha fatto se avete le posizioni incrementatele perché così compenserete le perdite vedrete che questo anzi è solo un ritracciamento questa grande occasione del vero mercato toro tutta serie quindi molti buttarono i soldi lì e buttando i soldi consentivano a qualcun altro di scaricare le azioni di scaricare quegli investimenti che avevano cominciato a perdere di cui loro si volevano liberare dopo anni di guadagni quindi dopo ovviamente è difficile dimostrare la mala fede in questi casi ma c'è tutto tante volte così un giro che non sapremo mai e quindi però quel caso che Galbet ricordava proprio i nomi e i cognomi di questi che propagandavano cose che poi si dimostrano totalmente false definiti esperti considerati esperti all'epoca dimostravano come in generale seguire il cosiddetto mainstream è sempre pericoloso nel nostro piccolo lo vediamo anche adesso per esempio se vediamo le ultime due valute che sono andate meglio in tutto questo anno di forte depreciamento di per esempio l'euro, ien rispetto al dollaro eccetera cioè come sono andate altre valute rispetto al dollaro vediamo appunto tantissime quasi tutte le valute hanno perso rispetto al dollaro hanno molto guadagnato il real brasiliano col terribile presidente terribile definito dal mainstream Bolsonaro al di là di come la si pensa ma così dipinto a reti unificate come il male e il rublo russo che ha superato il guadagno del real brasiliano adesso è la valuta che è andata meglio sia più apprezzata col loro presidente Putin quindi sono stati i super cattivi paesi dei due super cattivi sono quelli che hanno avuto le valute che si sono apprezzate di più se uno doveva stare a sentire la finanza questi dovevano già essere andati in bancarotta da anni, da mesi erano al disastro sia il Brasile sia la Russia devastati quindi qualcuno che ha guadagnato investendo su quelle valute appunto invece è andato contro questo mainstream e può venire il dubbio ovviamente non lo sapremo mai che magari era proprio chi magari incentivava con queste informazioni le persone a scaricare che poi comprava poco valute che poi invece per i fondamentali economici si sono apprezzate ma quello chissà però questo per dire che non bisogna secondo me fidarsi dell'informazione mainstream ma cercare di fare un'analisi noi non significa non fidarsi di nessuno perché le informazioni dobbiamo averle ma intanto cercare i dati oggettivi poi andare da fonti io per esempio vado molto su quelle internazionali perché per quanto hanno una visione politica abbastanza occidentale comunque hanno anche una loro credibilità hanno tantissimi giornalisti hanno anche una pluralità bene o male di giornalisti all'interno per cui comunque non è che proprio sballano come insomma alcuni altri nostrani soprattutto quindi prendere informazione è fondamentale soprattutto in periodi di crisi e di cali del mercato perché in quei momenti sarete ancora più nervosi ancora più agitati non avete tempo di approfondire avete fretta io facevo così le prime cose che leggete quasi cercate addirittura gli articoli che vi diano ragione che vi dicano che il mercato migliorerà che è il momento di comprare che la situazione si sta risolvendo li cercherete io mi ricordo che nel caso del crollo del 2020 del covid facevo questo all'inizio anche lì ci fu un esempio del genere sembrava che la anche ricordando i politici dell'epoca i nostri anche politici soprattutto che ricorderete dicevano che il rischio era zero che non bisognava chiudere nessun confine che mai sarebbe arrivato a questa malattia qui che esperti cosiddetti tali che poi casualmente anche giornalisti furono poi quelli che un mese due mesi dopo erano i più accaniti e feroci sostenituri di ogni limitazione di libertà trattamenti sanitari obbligatori dopo anche con tutti i medicamenti obbligatori punture eccetera erano i più cattivi cioè quelli che all'inizio minimizzavano che prima dicevano che non sarebbe mai arrivato poi era solo un semplice raffreddore poi erano gli stessi che erano feroci addirittura che quasi auspicavano il male in quei paesi quindi significava morti in quei paesi come la Svezia e Regno Unito che invece gli Stati Uniti che avevano un approccio più tranquillo nelle limitazioni di libertà perché il fatto che loro limitavano le libertà meno di qui e magari avevano meno morti di qui come purtroppo è stato in molti casi la mortalità più bassa era oggi uno smacco la gente potrebbe dire ma perché ci fate questo che non serve e ricordo proprio come l'informazione cambia ora così a così lo ricorderete anche voi all'inizio minimizzavano in modo esagerato e dopo era la fine estrema esagerato io ricordo come al mio livello di investimenti mi feci condizionare da questo quindi all'inizio quando iniziarono a calare i titoli addirittura incrementai la posizione su alcuni titoli e poi invece pensando magari così è la paura ma poi questi recuperano perché alla fine sembra tanta paura per niente o comunque non sembrava così grave anche perché dalla Cina arrivavano così queste notizie molto frammentari e poi sembrava molto isolato e dopo invece quando cominciò qui arrivare tutto e dopo portarono anche quelle misure estreme feroci insomma vi invito a ricordarvi a rivedere certe scene perché a età ci fu una situazione sanitaria terribile però vi invito anche a ricordare non so se poteva buttare la spazzatura quei vigili che sghignazzavano facevano vedere l'autocertificazione una persona che si aveva dovuto dire vado da una mia amica a fare sesso e questi che sghignazzavano e tenendo i video su internet gente che fino al giorno prima non era nessuno io personalmente ho avuto delle esperienze del genere stava per nascere mio figlio il giorno prima due vigilesse tra l'altro donna fermarono quindi uno penserebbe c'è la mia moglie c'è un pancione enorme enorme e quindi neanche stava sul sito del passeggero io la portavo in ospedale così per le visite e queste fermarono dice lei dice che scusi lei a che titolo guida ha detto ma non lo so dopo me ero anche un po' innervosito capirono dice ma lei a che titolo guida scusi lei non può guidare e se sua moglie va da sola lei a che titolo si muove scusi la vede oppure ma lei a che titolo poi ricordo che lei aveva sul foglio vogliono vedere il foglio dell'impegnativa che lei è andata in ospedale per quello aveva un appuntamento mi pare alle tre erano le due e mezzo loro dicevano ma qui sono le due e mezzo l'appuntamento alle tre allora perché eravamo tra l'altro vicinissime all'ospedale era lì quindi era evidente andavamo lì lei come ma c'è quindi ricordo la follia totale di questa situazione parentesi personale ma per dire questo però condizionò anche ovviamente tutta la mia vita condizionerai anche tutta la visione del mondo quello che ho avuto questi due anni mi hanno come evidente ma anche in positivo è stata come una doccia fredda terrificante però mi ha aiutato a capire tante cose mi ha così aperto gli occhi su tutta una serie di falsi miti che avevo anche in questo paese chiusa parentesi però anche sugli investimenti feci degli errori perché io stesso ero condizionato da quella visione di fine del mondo ricordo che in quei giorni il petrolio arrivò a meno 10 cioè un prezzo negativo cioè si veniva pagati per prendersi petrolio per quanto tutto il mondo pensava che stava per finire tutto e ricordo che non solo avevo venduto tutto anche un po' in perdita ma dopo inizia a comprare allo scoperto cioè a investire diciamo short come si dice e all'inizio guadagnai poi il mercato riprese e poi poi nella fase in cui sembrava peggio qualcuno ricominciò a comprare e quindi persi più quegli investimenti short che magari quegli investimenti normali che ho fatto ma poi via via avevo liquidato quindi comunque avevo un po' eroso i guadagni ma non avevo perso quindi questo per dire che le informazioni pure oggettive sono fondamentali sono fondamentali da trovare dovete cercare di avere una visione oggettiva e obiettiva e trovare anche delle fonti attendibili o guardare i dati grezzi o comunque guardare più fonti diverse anche non attendibili ma tutte diverse in modo da fare una sintesi un po' immaginate come in tribunale quindi questa è la prima regola fondamentale seconda regola di cui già avevo fatto così accenno in altri video è stata quella dell'investire solo quello che siete disposti a perdere sempre facendo l'esempio nel mio caso del 2020 io avevo due conti titoli uno con pochi soldi avevo comprato degli etf singoli titoli ma molto poco e lo usavo quasi mai nel senso investiti li lasciavo lì e un altro invece con la maggior parte dei risparmi che compravo vendevo ero molto attivo e praticamente con quello più grande feci questa cosa quindi compravo vendevo alla fine del gioco avevo perso poi l'ho recuperato ma insomma avevo perso tanto soprattutto di commissioni perché con queste conti di compravendita ho regalato centinaia di euro alla banca oltre tutto di commissioni tra l'altro l'altro conto invece di cui avevo dimenticato non ho dimenticato il password ma sapete dopo un po' di tempo che non fate accesso dovete ripristinarle tutte quelle procedure un po' antipatiche e quindi ho detto c'ho pochi soldi tanto non è che cambia molto li lascio lì, erano ovviamente pochi però erano abbastanza diversificati bene, quel portafoglio aveva sì perso molto all'inizio ma poi ha recuperato molto di più quindi io lasciando tutto fermo se avessi lasciato tutto fermo avrei alla fine guadagnato invece che fare tutte quelle continue compravendite ed errori perché questo? perché nel portafoglio più piccolo ho investito appunto meno soldi e quindi quello che ero disposto a perdere ovviamente non significa che uno è felice di perderli chiaramente ma che ero disposto a lasciare insomma ecco a dire non è che mi faccio a condizionare e infatti ecco il segreto per capire secondo me questa è la mia idea se avete investito troppo rispetto a quello che siete disposti a perdere è se voi state sempre a vedere le quotazioni a vedere l'estratto a vedere quanto hanno aumentato e diminuito se voi invece vi riuscite a dimenticare vi mettete i soldi lì investiti, non ci pensate sono investiti per il futuro eccetera non state, sì date un'occhiata non state troppo dietro allora vuol dire che non è che vi siete fatti condizionare troppo e fate scelte consapevoli magari anche di vendere i titoli ma lo fate con consapevolezza non presi dal panico io avevo fatto questo errore perché all'inizio ho investito non molto dopo quando avevano cominciato a calare ho incrementato le posizioni dicendo vabbè l'occasione ho perso un po' ma è l'occasione di vendere sono dei prezzi buoni di comprare sono dei prezzi buoni e invece andai oltre la quota che dovevo e lì fu il mio errore dopo infatti psicologicamente non ero più obiettivo quindi secondo consiglio investire solo quanto siete disposti a perdere terzo consiglio è appunto quello di mantenere diciamo fare delle regole prima che ci sia un calo un piano diciamo di regole e rispettarle quello ovviamente lo dovete decidere voi ma per esempio la cosa più classica è dire io massimo voglio perdere non so il 10% il 20% quello che sia un cosiddetto stop loss che o potete impostare proprio col sistema della banca per cui vende se raggiunge un certo prezzo il titolo oppure lo fate voi insomma per disciplina vostra e quel punto voi siete tranquilli massimo ha perso tot se invece non lo fate entrate in quel meccanismo psicologico devastante che io ho vissuto e ho sbagliato di non voler ammettere la perdita di non voler ammettere l'errore anzi come si fa il casino quando si perde rigiocare tutto di dire no allora aumento ho perso non so il 10% bene compro il doppio così perdo solo il 5% e quando si risalirà guadagnerò molto di più e invece poi se perdi perdi sempre di più finché si arriva al punto che uno psicologicamente ha talmente tanta patema d'animo che vende tutto con perdite spaventose quando mai è sceso tanto e solitamente a me è capitato appena prima che risale perché a quel punto ha perso troppo magari il titolo quindi quello è invece se vi date un programma prima e siete oggettivi e freddi lo rispetterete e questo vi fa stare anche più tranquilli e ragionare con più freddezza però dovete fare ovviamente prima che succeda questo come fare il piano appunto quarto consiglio il piano dovete farlo in base al vostro check up finanziario è stato il primo e secondo video di questo canale check up finanziario cioè capire la vostra situazione personale che lavoro avete quanto è stabile quanto vi entra quanto quante spese fisse avete ogni mese quante tipi di entrate avete se una sola entrata o un lavoro che rischiate di perdere oppure magari più entrate anche piccole ma ben diversificate quanti soldi avete e quello dipende solo da voi chiaramente immagino non so un ragazzo giovane che ancora vive a casa magari con i genitori ha un po' di soldi da investire non ha spese non ha debiti non ha mutui può permettersi anche di investire di più investimenti più speculativi rischiare di più magari con prospettive di guadagni maggiori rispetto a chi chiaramente magari ha un mutuo ha una famiglia ha un solo lavoro ha pochi risparmi rischiare tutto se va male anche perché a volte se cade il mercato e ci sono grosse crisi si rischia anche il lavoro può succedere magari il mutuo la casa perde valore quindi a quel punto si deve vendere quindi tante volte le cose sono anche collegate ecco perché è importante avere più entrate diversificate quello che dicevo sempre anche magari più piccole nel complesso ma da più fonti le entrate e quello chiaramente quella persona deve investire molto meno secondo me e soprattutto su investimenti molto meno volatili chiaramente può permettersi di investire meno e anche il piano finanziario di emergenza lo deve fare secondo me in maniera tale di appena perde un tot esco per evitare perdite eccessive quello ecco scusate il budget finanziario quinto consiglio sempre legato a questo per fare il budget finanziario e per fare il piano di emergenza e capire quanto si è disposti a perdere e quanto si può investire è fare un'analisi vostra personale proprio psicologica che non riguarda solo oggettivamente la vostra situazione finanziaria di quanto potete perdere ma proprio voi come siete fatti come persone essere onesti come voi stessi io faccio sempre l'esempio di mio padre lui ha un'avversione a rischio altissima per cui praticamente lui anche se magari ha parecchi risparmi ha una vita molto tranquilla spende poco gli bastano le entrate che ha non ha particolari pretese quindi potrebbe investire abbastanza insomma nei propri risparmi anche diversificando bene ma insomma ecco anche perché spesso vengono erosi dall'inflazione e lascia tutti i liquidi lui non lo fa io stesso gli dico non farlo perché appena ha provato a fare dei minimi investimenti anche perché ha avuto delle esperienze molto brutte di investimenti poi persi totalmente titoli spazzatura spesso venduti insomma soprattutto i primi anni 2000 quegli anni ricorderete insomma di così storia finanziaria italiana a quel punto lui anche per le esperienze che ha avuto ma anche proprio perché mentalmente è abituato agli anni 60 70 80 anche 90 dove comunque lasciavi i soldi sul conto corrente ti davano un vietasso di interesse 3, 4, 5% solo sulla liquidità quindi lui è abituato a dire io non rischio niente ricevo un interesse perché lasci i soldi in banca quella era la normalità che adesso in questi anni invece è stata capovolta però questo era quindi lui a un certo punto l'idea anche di dire ci sono stati casi investimenti che perde allo 0, qualcosa ma magari erano 100 euro quei 100 euro lui dice accidenti io però ci andavo a cena tre giorni tre cene ci facevo magari sto attento a non spendere troppo di qua non perché sia tirchio anzi molto generoso ma ci sta attento insomma come tutti magari io non vado a far lavare la macchina e poi 100 euro l'ho perso e tu non è che l'hai persi è calato oggi magari domani gli sai ma magari domani perde di più allora sono 300 che cacchio però l'hai detto senti lascia perdere vendi lascia le liquidi per come sei fatto quello al di là magari il budget finanziario gli consentirebbe di farlo ma la sua psicologia no lo vive male proprio psicologicamente quindi quello anche fondamentale voi dovete secondo me investire solo proprio l'idea di dire metto da parte dei soldi anche proprio per non spendere per non lasciare liquidi sul conto investiti però in base alla vostra situazione alla vostra avversione al rischio a non voler rischiare in base a quello che voi volete fare ma con l'ottica poi che se state col patema ad animo non va bene cioè voi pensate anche sempre questo investite con l'idea di avere dei soldi in futuro per stare più tranquilli per non trovarvi se vi trovate senza lavoro io penso anche alle persone che questo inverno hanno dovuto così per non piegarsi a ricatti sanitari eccetera hanno dovuto lasciare il lavoro o sono stati sospesi chi aveva dei risparmi ha potuto farlo chi non li aveva purtroppo non poteva ha dovuto così fare quello che non voleva sono stati costretti di fatto quasi ricattati è un termine forte ma mi viene in mente solo questo per cui qualcuno lo dice anche dice certo serviva questo perché qualche idiota non voleva farlo e allora serviva questo quindi lo dicono anche alcuni proprio in modo spudorato chi aveva dei risparmi non si è piegato e io dico sempre questo inverno è stata la prova di come avere una indipendenza finanziaria la libertà finanziaria significa anche a volte libertà personale purtroppo per tanti e quindi ecco fatevi sapere quindi questo è il consiglio quindi questi cinque consigli riassumendo informazioni più possibili oggettive per poter decidere al meglio e non farvi condizionare in negativo un investire solo quello che si è risposto a perdere fare un piano per questi momenti di cosa fare in caso di perdite fare un budget finanziario prima e fare un'analisi personale prima della vostra avversione al rischio reale io penso con questi cinque consigli che per mia esperienza insomma se li avessi seguiti avrei perso molto di meno vi possono aiutare molto ovviamente non sono completi anzi fatemi sapere nei commenti se vi viene in mente qualcos'altro io vi ringrazio come sempre vi saluto ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti